Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento da quindi ad Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti! Ancelotti al diciottesimo, porta in vantaggio il Milan. Tassotti, calibra il suo cross, il colpo di destra di Rijkaard ed è il 2-0! 2-0 per il Milan, grande stacco di Rijkaard! Ora è Donadoni, Donadoni punta Sancis, da Gullit, triangolo leggermente troppo lungo, fa in tempo comunque Donadoni a mantenere la palla in campo, punta ancora Sancis, serie di finte, cross, Gullit, gol! E sono tre! Si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol! Il gol clamoroso di Van Basten, stupenda azione del Milan, 4-0! Ecco Donadoni che ha ricevuto da Tassotti, parte il suo tiro ed è gol! Buio, non mi è parso nella sua serata migliore stasera e per il Real si profila una disfatta storica! Grazie a tutti!